Amiche ed amici appassionati di grande ciclismo, buon pomeriggio e benvenuti su Molino Sparciane. Ragazzi, parliamo della Pariginizza, primo e forse unico video della Pariginizza di questa edizione. Quest'anno è stato davvero complicato seguire Nizza e Tirreno, visto che erano praticamente l'una in contemporanea rispetto all'altra, visto rispetto agli anni scorsi, quando invece la Nizza iniziava molto prima rispetto alla Tirreno. Tirreno che terminava invece di martedì, mentre quest'anno termina di domenica. Sembra che questi due giorni non cambino niente, ma in realtà non è assolutamente così. Allora ragazzi, parliamo un attimino di questa tappa, la tappa regina della Pariginizza, da Nizza al Col de Turinie. È stata una tappa chiaramente molto di facile interpretazione, con la fuga solitamente che va via, però stavolta il gruppo maglia gialla, con la maglia gialla di Primoz Roglic, che non mandano via troppo la fuga, fuga che infatti non arriverà al traguardo. Fondamentalmente era un unipuerto questo, il Col de Turinie, salita classica delle Alpi Marittime vicino Nizza, 15,2 km, il chilometraggio appunto di questa salita, 7,2 la percentuale dipendenza media di questa salita. Inizialmente c'era una fuga numerosa, di numerosi corritori, che pian pianino si sfalda sulle prime rampe dell'ascesa al Col de Turinie. Scusate per il microfono, purtroppo non oggi non ce l'ho, quindi mi dispiace, però purtroppo vi dovete accontentare della voce un po' così, del microfono, del telefono, che sicuramente non è eccezionale quanto quello del microfono stesso, quello che metto solitamente qui. Comunque detto questo, i fuggitivi che solitamente sono riusciti a rimanere più in avanza scoperta sono stati quattro, vale a dire Thomas De Gendt della Lotto Soudal, vale a dire Quentin Paché, corridore che da quest'anno difende i colori della Groupama FDG, Frank Bonamour, rivelazione dello scorso Tour de France, corridore della BNB Hotels, oltre che Gregor Mühlberger, austriaco della Movistar, ex Borans Grohe, lo sappiamo. Dopo un cambio di ritmo da parte di De Gendt, che però segue la risposta da parte degli altri tre, si arriva allo sprint intermedio, sprint intermedio vinto da Quentin Paché su Frank Bonamour, ma dopodiché si scatena Mühlberger, che resterà in avanza scoperta per circa metà salita, perché i corridori che erano andati in fuga dalla mattina hanno iniziato la salita con solo un vantaggio intorno ai 50 secondi. Dopodiché inizia a menare forte la Ineos Grenadiers con Omar Flaire, particolare protagonista, dopodiché si mette davanti in testa la formazione del leader Primoz Roglic, ma la corsa si infiamma a 7,2 km dalla conclusione, con l'attacco da parte di Adam Yates, il corridore inglese, resta in avanza scoperta. Roglic sa che si deve muovere e che non può più contare sull'aiuto dei suoi compagni di squadra, Ron Dennis e Sven Kroesvec, anzi vi dirò di più, al Tour de France sarà fondamentale la porta di Jonas Vingegord, perché oggi si è visto come mancasse effettivamente un corridore come Vingegord nel treno in salita da parte della Jumbovisma, con Roglic che è stato costretto a muoversi in prima persona per andare a riprendere il corridore della Ineos Grenadiers. Dopodiché Roglic si porta dietro anche Nairo Quintana e Dani Martinez, e così sembrava appunto che Roglic fosse, diciamo, immerso nel trenino della... nel panino, scusate, della Ineos Grenadiers, in un gruppo di quattro con due corridori di questi che erano della Ineos. Pian pianino fa capolino sui quattro anche Samuel Yates che rientra di passo, grande, grande tattica da parte del fratello di Adam, corridore della Dimbak Exchange, già Ico. Dopodiché si scatta, si stacca Yates, a dimostrazione del fatto che quest'oggi la Ineos correva per le ambizioni di Martinez, e non per quelle di Roglic. Sull'avanzata di Yates, Adam, precedente, si era staccato anche per la Tour, che quest'oggi era partito da Nizza, in terza posizione in classifica generale. A questo punto seguono vari attacchi da parte un po' di tutti lì davanti, però nessuno riesce più a staccare nessuno, si stacca qualche volta Quintana che era abbastanza fattualmente in debito d'ossigeno negli ultimi chilometri. Parte la volata intorno ai 400 metri dal traguardo, volata che viene letteralmente vinta, ma non vinta, stravinta da Primoz Roglic, che sorprende Daniel Felipe Martinez, che non riuscirà più a ritornargli sotto. Arriveranno comunque con lo stesso tempo, terza posizione a due secondi per Yates, quarto Quintana. Era tornato sui primi anche Joao Almeida, nell'ultimo chilometro, perché gli ultimi due chilometri sono stati di surplus. Joao Almeida che arriva a 11 secondi, poi a 25 secondi per Noc McLealty. Buona l'ascesa del corridore dell'Oeti Memirez. a 27 secondi, arriva in settia posizione Jack Hague, poi Adam Yates a 29, Guillaume Martin a 44, Waterpulse conclude la top 10 a 56 secondi. Per una classifica generale che recita, ha una tappa dalla fine, vi ricordo che domani c'è la scoppiettante Nizza-Nizza, con Roglic che ha un tesoretto di 47 secondi di vantaggio su Samo Yates, poi Daniel Martinez a 1 minuto, a 1 minuto e 50, Adam Yates a 2-0-4, Nairo Quintana. E niente ragazzi, dite un po' voi se potrà cambiare il podio di questa Parigi-Nizza, secondo me sarà molto interessante vedere la lotta fra Martinez e Yates, Yates-Simon ovviamente, i due sono separati solo da 13 secondi in classifica generale, adesso ragazzi mi raccomando c'è la Tireno Adriatico, con Ciccio, con la tappa del Carpegna, poi ci sarà anche il calcio, stasera c'è la Juve, lo sapete, ora vedremo se ci sarà anche il Milan, vedremo se lo faremo anche. Niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao cari! Ciao cari!